Cinque minuti fa il Consiglio Comunale di Santa Croce e Camerina ha approvato lo schema di massima del piano regolatore. Tra qualche mese quindi avremo un piano regolatore generale nuovo per Santa Croce e Camerina. Io ringrazio tutti i consiglieri comunali che l'hanno votato all'unanimità per questo regalo alla città. Noi confidiamo nel piano regolatore generale per lo sviluppo turistico e per dare la possibilità di lavoro a tanti giovani. Grazie. Grazie.